Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione più debole sul nostro territorio, il tempo si mantiene buono giovedì 30 marzo, nei giorni successivi invece maggiore variabilità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo un ampio soleggiamento, con il passare delle ore alternanza di nuvole e rasserenamenti, con più nubi e non si escludono in serata deboli precipitazioni sui monti, fin verso le pianure limitrofe. Temperature in aumento, minime tra 6 e 9 gradi, massime tra 14 e 18 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un cielo sereno con progressivo aumento della nuvolosità, anche in questo caso durante la giornata. Dalla sera piogge sparse, soffierà vento da sud, anche moderato sulla costa. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancherà il sole, qualche addensamento verso sera con locali rovesci. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 19-21 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.